Grazie a tutti Grazie a tutti. ...all'accensione del Palò di San Giuseppe, 19 marzo 2014. Vogliamo fare ancora un applauso alla pubblica assistenza di Castelbaronia? Grazie. ...all'accensione del Palò di San Giuseppe, 19 marzo 2014. ...all'accensione del Palò di San Giuseppe, 19 marzo 2014. ...all'accensione del Palò di San Giuseppe, 19 marzo 2014. ...all'accensione del Palò di San Giuseppe, 19 marzo 2014. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.